Grazie, grazie Laura Cannavò, buon pomeriggio a Federico Dincà, esponente cittadino o parlamentare del Movimento 5 Stelle, in Commissione Bilancio, è stato capogruppo fino a qualche settimana fa. Allora, da cosa vogliamo partire? Innanzitutto io partirei da un argomento di cui si parla poco, le espulsioni. Stanno arrivando altre ammende alla Camera per le proteste che voi fate, in maniera, che permettono un eufemismo, colorita spesso. E quindi avrete altre ore di sospensione? Sì, infatti, do un buon pomeriggio a tutti. Noi avremo ancora una volta un atto di violenza nelle nostre confronti, avremo ancora una volta altri 370 giorni di sospensione, che vanno ad aggiungersi alle sospensioni che sono state prima, quelle per il tetto, in cui abbiamo protetto la costruzione. Sì, quando siete saliti sul tetto. Sì, che erano circa altri 140 giorni. Mille giorni abbiamo contato. Sì, certo, prima ancora anche per quanto riguarda la difesa della Banca d'Italia e quello sceno decreto nel quale si è voluto regalare 7 miliardi e mezzo, poi sono 15 mila miliardi. Allora, è cattivissima la presidenza, dalla Bordrina agli altri presidenzi, cioè anche Di Maio, insomma, apprezzato tra l'altro il vostro compagno di movimento, di partito, o siete voi che andate spesso oltre le regole del gioco? No, guarda, te lo posso dire in maniera sincera, perché io c'ero in queste cose. La nostra è sempre una... Lei però non si è beccato la sospensione. No, non mi sono beccato, no. Non ho avuto sospensione. È come degli studenti abili per non farsi... No, semplicemente vi sono delle persone che hanno appunto voluto andare ad occupare i banchi del governo sempre con una forma gandiana e pacifica. Ma la Boldrini, che spesso all'interno della Camera si può vedere come il dittatore della Camera, io lo dico anche in maniera chiara, ha voluto punirci in questi mesi con quasi mille giorni di sospensione. E a noi non fanno paura la sospensione. Io ritengo però che sia incostituzionale non permettere a un parlamentare di poter partecipare ai lavori di commissioni e ai lavori d'aula. Anche se trascende quel parlamentare? Non è un problema per i soldi. No, di quanto si trascende nel comportamento. No, no, non è vero. Noi, la nostra volontà è quella di proteggere gli interessi nazionali. Per far questo mettiamo in atto delle pacifiche contestazioni che danno la possibilità al cittadino di poter sapere, conoscere. Una volta queste cose non venivano fatte. E il vaso di Pandora non veniva mai aperto. Noi invece, grazie alla nostra capacità di poter andare a trovare le cose nelle commissioni e poi quindi anche a capire perché mettono insieme Imo e Banca d'Italia in un decreto legge unico che fa ribrezzo, perché appunto è un regalo per le banche private. Su questo avrebbe fatto una forte contestazione, ma non si punisce chi protegge gli interessi nazionali con mille giorni di sospensione. E non è un problema di soldi, io lo ripeto prima. Ogni giorno di sospensione costa il deputato 200 euro. Non è un problema, a noi va bene essere sospensioni. È un problema di negazione dei propri diritti. Il problema è di mancare la partecipazione all'interno delle aude parlamentari per i lavori, perché sono fondamentali. Lei ha una laurea in Economia e Commercio, quindi sta parlando di Banca d'Italia, ha insistito. Il nostro titolo è, poi ci torniamo su quegli argomenti, Renzi il temporeggiatore, perché voi sostanzialmente sostenete che Renzi non fa nulla, promette, promette, però 80 euro in busta paga li ha messi. E li ha messi dove, io ti chiedo? Con quale decreto li ha messi? Un po' di italiani, mi pare che li verranno a fine maggio. Ancora manca il decreto, ancora manca quell'azione del governo in cui troviamo scritto le coperture, troviamo scritto il valore degli 80 euro. Finora a chiacchiere tutti sono capaci. Abbiamo avuto un grande comunicatore, se così potremmo dire, che si chiamava Silvio Berlusconi. Adesso abbiamo trovato il Silvio Berlusconi della sinistra che si chiama Matteo Renzi. Ecco, entrambi fondavano, fondano il loro potere sulla comunicazione. Noi le 5 Stelle abbiamo altro in mente, abbiamo fatti concreti. E per poter fare questo noi vogliamo vedere le carte, poterle leggere, poterle capire e quindi poter vedere effettivamente questi soldi. E' difficile fermarla, Vinca. Lo so, però ancora un secondo, le voglio dire, noi abbiamo il timore, da una parte, il gioco delle tre carte, ti danno 80 euro e dall'altra ti tirano indietro la detrazione carico del coniuge. Quindi 65 euro al mese per quelle famiglie. hanno aumentato la possibilità di poter dire, di poter farsi che la tasa si possa aumentare. Nei comuni di un miliardo e mezzo forse tre. Lo dice da dottore in economia e commercio, lo hai fatto i conti. Io da cittadino prima di tutto, perché noi ci impegniamo all'interno delle istituzioni come cittadini. Le chiedo, è il rimprovero che fanno a voi in realtà, no? Di essere il movimento dei no, il movimento che contesta tutto, ma in realtà di non essere, se ancora misurato poi con il governo delle cose, che è la cosa più difficile. Allora vi dico di un'indicazione concreta su quella che è l'idea di governo che avete voi, e che magari, appunto, nelle commissioni siete riusciti in questi mesi a mettere in pratica, senza che noi ce ne accorgessimo. Ma guardi, noi siamo, innanzitutto, per una lotta nei confronti degli sprechi. Noi stiamo cercando di portare avanti quelle che sono le nostre considerazioni, tra le commissioni e spesso votiamo a favore di emendamenti che sono favorevili per la cittadinanza. E poi sul decreto, avendo appunto detto che spesso volentieri mettono insieme la parte buona e la parte cattiva, noi non siamo d'accordo. E spesso manifestiamo anche con una voce forte, se così si può dire. Del resto noi siamo quelli che hanno fatto la compensazione con un emendamento delle cartelle esattoriali. In pratica, chi ha debite nei confronti della pubblica amministrazione e ha un credito lo può compensare. Questo non c'era, è grazie al Movimento 5 Stelle che si è messo all'interno. La nostra proposta sull'IRAP è una proposta semplice per riuscire per le piccole aziende a togliere con delle coperture che effettivamente esistono, non come spesso... Me la spieghi meglio? Non ho capito. Qual è la proposta? La proposta sulle tasse, ma non poi l'argomento più sensibile per tutti noi. La proposta sulle tasse è molto semplice. Il nostro Paese si fonda sulle piccole e medie imprese, sugli artigiani che hanno l'operaio che lavora insieme, sugli autonomi. Ecco, noi su queste piccole aziende abbiamo fatto una proposta concreta, trovando appunto le coperture economiche, per andare a togliere l'IRAP su queste piccole aziende che sono sotto i 10 dipendenti. Questa è una parte fondamentale. Ma noi io dico anche di più. Noi siamo quelli che vogliono l'abolizione di Equitalia, che è un tema fondamentale in questo Paese. Equitalia è però l'esattore. Qualcuno le tasse dovrà riscuotere. Se aboliamo Equitalia forse dovremmo trovare un altro esattore, no? Oppure come si fa a pagare? Lo vogliamo chiamare esattore o carrozzone? Perché sono due termini diversi. È un carrozzone. È un carrozzone dove i politici hanno messo i loro amici, dove lucrono sopra e dove, gli dico subito anche, abbiamo dato la possibilità di riscuotere 897 miliardi di euro. Di questi realmente riscossi fino ad oggi, dal 2000 ad oggi, con i governi Berlusconi, con i governi Prodi, abbiamo riscosso 60 miliardi di euro. Con che cosa lo sostituirebbe Equitalia? Ma noi mettiamo la possibilità di poter diminuire l'agio. In questo momento l'agio, in certi momenti è raggiunto, c'è il tasso di interesse sui crediti, l'8-9% a casa mia si chiama usura. E questo perché? Perché deve alimentare un carrozzone fatto da 8 mila dipendenti e da 5 mila consulenti esterni. E questo non è una cosa possibile. Occorre andare a purificare delle consulenze esterne, che speso sono amici degli amici, e andare a far sì che vi sia un costo degli interessi equo, conguro. E questo, dare la possibilità anche di avere scadenze leggermente migliori, perché non è possibile vivere con l'ansia di pagare una cartella esattoriale, altrimenti ti portano via alla casa. Il nostro tempo fugge, Dinka, mi dispiace interrompere, ma mi sembra che sia stato chiarissimo su questo argomento, elezioni europee il 25. Se vinciamo, ha detto Grillo, chiederemo di andare al governo, poi chiederemo l'impeachment per Napolitano, vincerete se raggiungerete quale percentuale di voti? La felicità è trovare le persone per strada e per le piazze. Lei come sa bene, noi stiamo facendo un tour in tutta Italia. Deve essere velocissimo perché ci tolgono la piazza. Certo, noi abbiamo questa possibilità di vincere, e noi crediamo di poter andare oltre il PD, ma andare oltre il 30%, e di riuscire finalmente dall'Europa a cambiare questo paese. Con i nostri punti fondamentali, che sono l'abolizione del fiscal compact, tremendo, in 20 anni, 50 miliardi di euro all'anno, che andranno a essere minori servizi, se va oltre il 30%, chiederete di andare al voto? Certo, noi chiederemo di andare al voto, e io sono convinto che anche Giorgio Napolitano questa volta dovrà ammettere la sua sconfitta personale, visto che è lui che ha voluto il governo Monti, il governo Letta e il governo Renzi, e finalmente questo paese potrà meritare un governo 5 Stelle. Questo sa un po' di comizio, ma grazie Federico Dinka, la linea può tornare a Laura Cannavo.